Eccolo, eccolo, vai con il liscio, è tornato quest'anno, però non fate piano, non parlate tanto forte Guardatelo e dimenticatelo, perché facciamo così quest'anno Partiamo subito con l'apertura, l'incredibile Martino e la cuffata eccezionale Ballone, ballone sanguinoso, Martino va a fare canestro No, se l'hai baciato! Oddio, che cuffata! Che cuffata, non volevamo, ma fa Martino Ma andiamo con guida Bernardini e Gushon Kobzaru La difesa di San Feliciano De Paulis, Marti in quarta Eppinari Lo squalo Tete Questo non sembra un liscio, però è bello, borgogni di viete Tiberi Focu su Campogiani Di Benedicte Giocondo sin castra Giordano Maggi Bocciacova Di Simone su un ragazzo a bordo campo Ancora De Benedicte I nuovi acquisti della Stamal 90 Lebo E Geniaz E chiudiamo con Bocciacova Bocciacova Grazie a tutti Fabio Allora Ciao Grazie a tutti.